Approfitto di questo video per condividervi il repository che utilizzerò per tutti i tutorial a seguire sul canale YouTube e in più vi faccio anche vedere tutti gli strumenti per poter scaricare e eseguire questi codici nel modo più semplice possibile. Quindi, in descrizione del filmato, poi vi passerò il link del repository. Vedete che è navigabile, per adesso ho inserito solamente una sezione Python dove ci sarà una parte, diciamo, base per cominciare a prendere dimistichezza con il linguaggio dove sostanzialmente ho raccolto tutti i codici a partire dall'inizializzazione delle variabili fino a capire come andare a inizializzare una classe, però questo lo vedremo in un video dedicato. Poi ho già inserito anche una parte più avanzata nella quale faccio uno studio di correlazione fra l'andamento dello standard S&P 500 e il prezzo di Bitcoin per capire quanto questi due mercati sono correlati dal 2015 ad oggi e in diversi intervalli di tempo. Comunque, non perdiamo tempo, gli strumenti per poter scaricare questi codici ed eseguirli sono sostanzialmente Surstream, quindi vi raccomando di installarlo, naturalmente è disponibile anche per Windows e poi Anaconda è il package manager necessario appunto per poter avere tutte le librerie di Python isolare gli ambienti in un modo abbastanza semplice, inoltre è anche predisposto con tutte le librerie di machine learning naturalmente si possono utilizzare anche altri strumenti, altri environment manager ma questo qua secondo me è il più semplice che potete utilizzare per iniziare e inoltre mette a disposizione anche delle funzioni avanzate. Comunque andiamo in ordine, quello che dovete fare, allora portiamoci nella main della mia libreria, del link che vi fornirò quindi andate sostanzialmente qui su clone, vi andate a prendere il link, qui vi da anche il link per aprirlo direttamente in Surstream prima facciamolo manualmente andate su clone url, inserite proprio questo link qui e lui vi da già un'ipotesi poi potete anche andare a personalizzare la cartella, mettiamola qui e la chiamiamo prova in questo caso, quindi lui me la va a creare, facciamo open come potete vedere avete clonato perfettamente i miei codici quindi se io apro il mio package manager entro dentro, avete esattamente tutti i codici quindi a questo punto come fare per aprire questi Jupyter Notebook aprite Anaconda che avete già installato quindi qui vedete gli ambienti che potete creare ma vi consiglio di partire già col base lanciate Jupyter Notebook e adesso vi riportate esattamente nella stessa directory della cartella che avete scaricato quindi base, 01 le basi della programmazione python e come potete vedere avete già il primo tutorial da poter eseguire va benissimo, questo naturalmente lo analizzeremo poi in dettaglio in un altro video nel frattempo ci vediamo alla prossima, grazie mille a tutti